Claudio Sinigaglia, parliamo di poltrone vacanti se così lo possiamo definire. C'è questo assessorato sociale in Regione del Veneto che dopo l'addio di Remo Sernagiotto di fatto è passato di competenza al governatore del Veneto Luca Zaia, ma di fatto non c'è una figura di riferimento e ci sono tante pratiche da seguire e da svolgere. Certo, è da aprile che la Regione del Veneto è priva dell'assessore sociale perché appunto il titolare è stato promosso, bontà sua, europarlamentare. Però ci sono delle decisioni da prendere che riguardano il Fondo per una autosufficienza, 721 milioni da decidere come spendere per le case di riposo, per le impegnative di domiciliarità, per i disabili, i centri diurni oppure le comunità residenziali. Le decisioni non vengono prese, oppure vengono prese penalizzando questi servizi. Ad esempio le case di riposo oggi hanno un costo assurdo, 1800-1900 euro per famiglia al mese. Bisogna spendere per ricoverare il proprio caro in una casa di riposo. E questo è legato a decisioni che la Regione non ha preso, come la riforma delle IPAB, delle case di riposo, oppure la quota sanitaria che non è stata adeguata. Ma anche sto pensando alla decisione che non sta arrivando, che sta mettendo in ginocchio le scuole materne e gli asili nido paritari, quelli parrocchiali, tanto per capirci, oppure quelli dei comuni. Non è stato fatto il riparto nel 2014, siamo a settembre e queste scuole non sanno su quale contributo potranno contare da parte della Regione. Ci sono lavoratori a rischio, ci sono scuole che rischiano di non aprire per questo motivo. Perché Zaia non provvede alla sostituzione dell'assessore? La sostituzione dell'assessore vuol dire prendere decisioni e anche avere una politica. In questo momento invece il sociale è abbandonato nella nostra Regione. Manca la politica del sociale.